Ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio un attimino fare un focus sul numero 3 di Uth edizione da fumetteria. La copertina di questo mese, quindi dopo Lola Iraghi e Corrado Roy, abbiamo Fabrizio De Tommaso. Fabrizio De Tommaso, che è il grandioso copertinista di Morgan Lost, che ogni mese ci regala delle bellissime copertine di Morgan Lost, su questa variante di Uth è riuscito addirittura a superarsi. Una copertina che dire che è stratosferica è dire poco, un disegno bellissimo e una colorazione veramente veramente eccezionale. Guardate questo gatto, è un qualcosa di impressionante e soprattutto questa luce posta dietro Uth la rende, gli dà anche quel tocco di mistico e di magico. Quindi una copertina ragazzi che è veramente eccezionale. Nella mia fumetteria sono riuscito a trovare soltanto una copia perché sono andate a ruba tutte quante. Uth qui a Verona sta vendendo bene e spero che venda bene che nel resto d'Italia perché è una miniserie che mi sta cominciando a piacere tantissimo. I primi due numeri mi avevano lasciato un po' così e invece il numero 3 è stato per me una bella rivelazione. Vi lascio qui la mia recensione appunto del numero 3, le vie dei pensieri. Se volete dargli un occhio comunque vi fareste un grandissimo favore. Come sempre l'edizione da fumetteria è curata molto meglio che non fa quella da edicola. L'apparato grafico mi piace molto molto di più e in più questo mese questa stupenda copertina di Fabrizio De Tommaso la rende ancora più bella. Quindi dopo la già bellissima copertina di Lola e Raghi del mese scorso ne va a seguire questo capolavoro di Fabrizio De Tommaso. Come sempre nell'edizione da fumetteria abbiamo la storia, quindi quella che trovate già nella mia recensione che vi lascio qui nel link. E poi abbiamo come sapete, se avete già visto gli altri approfondimenti appunto dedicati a Uth da fumetteria c'è anche un apparato redazionale che ci va a spiegare un po' i personaggi della storia. Questo mese, questo apparato redazionale è ancora più interessante del solito perché ci vengono svelate delle cose che nella storia io non avevo tanto ben capito. Quindi si va a parlare di tutti i personaggi che appaiono in questa storia, quindi come Gao, come la nostra Eve o numero 4 perché scopriamo in questo piccolo redazionale che il suo nome è Siv ma vuol dire anche 4 perché lei ha 4 cloni. E appunto alla finale della storia comparirà anche l'originale. Scopriamo anche i piani di Gao e di Decio, ci vengono spiegati bene in questi redazionali il complotto che c'è tra Gao e Decio per non far arrivare Ira non alla verità, per non fargli capire di essere un originale come è originale Eve. Scopriamo addirittura qui che Gao insieme a Decio, Og e un altro sono i 4 architetti genetici cosa che io non avevo fatto caso nella storia. Quindi c'è un approfondimento veramente molto molto utile e quindi vi consiglio di leggere, appunto, di comprare in fumetteria questa edizione di Hoot. Se dovete scegliere tra questo e l'edicola, comprate questo. Costa 1,50 euro in più, però veramente questo redazionale in fondo vi aiuta moltissimo a capire la saga di Hoot. E io sono contento appunto di comprare tutte e due le edizioni perché appunto con questi piccoli redazionali ho un bel aiuto a capire la storia. Vedete qui c'è un focus sull'originale appunto di Eve che è come Ira non solo che ha più memoria, qui è spiegato, lei ha memoria di ciò che è, invece è il nostro Ira nonno no. Parliamo di Tommasa che è la quarta copia appunto di Eve quindi un numero molto incentrato su questa figura appunto di Eve. Poi parliamo del nostro gattino, l'unico essere di questo mondo che ancora richiama un po' di umanità quindi l'unico lato umano del mondo incredibile di Hoot. Un focus sul pericon, quindi questo mondo, questo palazzo, scusatemi, della via dei pensieri dove appunto ci sono questi 14 esseri che si fondono in un essere solo e poi abbiamo il significato dato da dove Corrado Roy ha preso spunto per i nomi. Quindi Decio è per omaggio a Decio Canzio, Iranon, Ersigna e qui c'è appunto questo focus su come il nostro Corrado Roy abbia scelto i nomi quindi molto molto interessante. E poi la solita intervista al disegnatore della Variant Cover questa volta Fabrizio De Tommaso, è il grandissimo Fabrizio De Tommaso che ci racconta appunto com'è il suo impatto con Hoot e com'è nata questa splendida copertina che ci viene fornita in questo numero 3 spettacolare. Quindi vi straconsiglio questa edizione da fumetteria compratela, la copertina merita l'acquisto cioè anche se non ve ne frega un cazzo di Hoot ma solo per avere quest'opera d'arte di Fabrizio De Tommaso io ve la straconsiglio molto molto interessante il reparto redazionale che appunto mi va a giustificare perfettamente quell'euro e cinquanta in più di differenza che c'è da Hoot e da Edicola quindi se volete questo mese magari avete preso sempre quelli da Edicola fate uno strappo alla regola e compratelo da fumetteria perché veramente merita. Lasciatemi qui sotto nei commenti se anche a voi le vostre pareri sulla serie di Hoot e su questa edizione da fumetteria se mai l'avete presa fatemi sapere cosa ne pensate degli autori di Corrado Roy insomma ditemi quello che volete come sempre qui sotto nei commenti che a me fa tanto piacere ricordatevi se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale per essere sempre aggiornati sul mondo di Hoot e di tante altre uscite della Sergio Bonelli Editore condividete questo video con più persone possibili in modo da far conoscere il mio canale a tanti appassionati di fumetti come me e quindi avere tanti appassionati che vengono a parlare dei fumetti qui sotto questi video o anche sulla mia pagina Facebook vi lascio qui il link in descrizione passate anche da Facebook mettete un like, un commentino anche sulla mia pagina con questo vi saluto vi ringrazio per aver assistito a questa recensione ci vediamo alla prossima ciao ragazzi